Come si internazionalizza la Sardegna? Ci sono due parole chiave oggi, una è internazionalizzazione e l'altra parola chiave è turismo attivo e sportivo. Per quanto riguarda rendere la Sardegna più internazionale, abbiamo fatto un grande lavoro con gli operatori, con i consorsi, l'associazione di categoria e con i territori per portare la Sardegna nel mondo. L'abbiamo fatto scegliendo dei mercati obiettivo che abbiamo portato anche in Expo, in particolare nel nord Europa che oggi è particolarmente presente in occasione di BITAS e abbiamo pensato a creare nuovi tematismi che interessano i mercati stranieri. Per quanto riguarda invece il turismo attivo, oggi è un'occasione straordinaria per coniugare nuove forme di attrattiva della regione. Puntiamo sempre sul prodotto mare che è il nostro punto di forza, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che c'è tanto da fare per quanto riguarda altre tipologie di offerta. Organizzare il sistema come si sta facendo oggi con BITAS, incontrare i buyers e i tour operatori internazionali e vendere un prodotto diverso, una Sardegna diversa, più vera e anche più attrattiva è la sfida che cerchiamo di cogliere insieme ai territori e insieme agli operatori. BITAS è una parte importante perché fa incontrare domande e offerte di una forma di turismo molto particolare che è in grande crescita. Il mondo pensa al benessere, pensa al wellness, pensa al turismo attivo, pensa allo sport e noi abbiamo molto da offrire a tutti quelli che vogliono trasformare la vacanza da un'esperienza vera a un'esperienza vera attiva. Grazie a tutti.